buongiorno a tutti siamo qui alla camera di commercio in occasione dello start up day con gli alunni del pascal bene siamo qui con un alunno borea rocco e ti chiediamo subito di presentare un po il tuo progetto cosa il vostro progetto quello che ha fatto la vostra classe assolutamente sì il nostro progetto che è composto da me francesco caso e nicola longo tre ragazzi della quinta inf che hanno deciso di creare questa applicazione per le prenotazioni molto simile a booking ma si differenzia principalmente per la quantità di servizi disponibili noi forniamo più di 50 servizi la possibilità di prenotare più di 50 servizi diversi quindi hotel ristoranti anche ombrelloni spiaggia di prenotare per esempio dei campetti sportivi di prenotare qualsiasi cosa si possa immaginare ora come ora siamo in fase di progettazione e di testing della versione pre beta e nella versione beta finalmente potremmo rilasciare appunto al pubblico utilizzo cosa ne pensi di grani digitali l'incubatore di impresa che presente al al pascal allora sinceramente all'inizio grani digitali sembra un po il solito progetto scolastico quello lì che fine a se stesso dove non si può fare molto ma in realtà basta crederci un minimo ma davvero poco perché le aziende da sé vengono a chiedere qual è l'idea magari si interessano anche al progetto noi in questo caso siamo stati molto fortunati perché addirittura due aziende si sono interessate a noi che sono la dev world e la demaconsulting che ci hanno seguito in tutta la fase di progettazione di studio del linguaggio per esempio che abbiamo utilizzato noi che è flutter e loro sono stati di grande aiuto tema per la progettazione e dev world per la programmazione dell'applicazione e ora come ora la dev world ci vorrà seguire anche in futuro da quello che appunto ci ha ci ha accennato e siamo felicissimi di questo va benissimo grazie mille alla prossima intervista grazie a tutti